buongiorno a tutti eccoci qua oh chissà se stasettimana qualcuno si comporterà bene o male o si farà i cazzi sui chi? qualcuno qualcuno stasettimana i cazzi sui non si farà chi lo sa intanto qua abbiamo una tagliatella tanto che inizia bene il lunedì no? hai mangiato tutto il weekend continuo a mangiare eccolo guardate il re dell'arsugo incredibile fuori sono 10 gradi ma sta nevicando guardate come nevica incredibile sta nevicando riaprono tutti gli impianti anzi aprono ancora di più madonna di campiglio pinzolo folgarida marileva riapre tutto guardate come sta nevicando incredibile guardate come l'ha fatto guarda che nevicata che ha fatto ma che nevicato ha fatto è un sacco di coglioni ha riaperto tutti gli impianti ski lift di sasso si si l'impianto della luce per mangiare per mangiare ma se si tagliatella ci vuole lo ski pass oh basta che te ne vai mi fai mangiare tu dovresti mangiare questo riso basmati col tonno al naturale mangialo per te dovresti mangiare questo assaggialo 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 ma mangi si mentola per il culo no ma questa è una roba che non ci si crede io non ho parole te te hai parole nemmeno io